La mia sera è il cavallo di battaglia che da anni ormai è conosciuto, diventa il simbolo, diventa il segno del Pascoli, delle sue scelte linguistiche, di tutto quello che ha di novità la sua poesia. Proviamo ad analizzarla. La mia sera, il titolo è già Riveratore, perciò quando qui parliamo di giorno, di lampi, di tacite stelle, ricordiamoci che è tutta una metafora. Perché il giorno è la sua vita. I lampi furono le sue disgrazie. Le stelle sono la speranza di un po' di pace. Il giorno fu pieno di lampi. La mia vita fu piena di tanti dispiaceri, di tante sofferenze. Spesso, come i lampi, non attese, improvvise. La sera sembra dare finalmente un po' di ristoro all'anima sofferente del poeta. Le stelle, le tacite stelle, evidentemente tacite stelle è una sinestesia. Le stelle non possono essere tacite, non hanno parole. E le stelle diventano un simbolo, il simbolo di una alternativa. Finalmente respiro. Di nuovo la poesia del Pascoli che procede così in modo impressionistico. prima si è parlato del giorno, i lampi, le stelle, poi si passa ai campi. Nei campi c'è un breve gregerai di ranelle. È una onomatopea utilizzata spesso dal Pascoli. non solo le parole onomatopeiche, con funzione onomatopeica, ma anche proprio l'onomatopea. E qui abbiamo appunto questo procedimento impressionistico. Allora il giorno, poi si passa così. Il verso franto, con un punto nel bel mezzo del verso. Nei campi ci sono le ranelle. i pioppi, ecco, le tremule, le foglie dei pioppi trascorrono le gioie leggerne. Abbiamo quindi un enjambement dove il verso prima termina in quello successivo. e poi un anastrofe una gioia leggera trascorre le tremole foglie dei pioppi. Una gioia leggera sembra trapassare le foglie tremole dei pioppi. Nel giorno che lampi, che scoppi, tre metafore. perché lampi e scoppi assieme al giorno hanno un significato ben preciso. Il giorno, abbiamo già detto più volte, vedete che qui c'è anche un'anafora il giorno e poi di nuovo il giorno. Il giorno ha il valore della vita per Pasqua, i lampi e i scoppi sono i dolori e le sofferenze. Di nuovo un'altra metafora la sera ormai la maturità la maturità avanzata. Di nuovo in questa sera si aprono le stelle nel cielo si tenero e vivo. il cielo non può essere tenero, no? Tenero è qualche cosa che cade sotto la sensazione tattile il cielo cade sotto la sensazione visiva quindi è una sinestesia. Anche vivo potrebbe essere un antropomorfismo una una metafora in ogni modo è tutta la natura che sta vivendo abbiamo parlato dei pioppi adesso si parla di un cielo che è tenero e vivo abbiamo parlato di foglie che trascorrono dove si trascorre una gioia leggera abbiamo parlato delle stelle che sono tacite e tutta la natura che a un certo punto vive in sintonia con il poeta infatti dopo continua la presso delle granelle singhiozza monotono un rivo singhiozza è una onomatopea singhiozza una parola che in qualche modo attraverso il suo suono cerca di imitare il pianto è un è un antropomorfismo perché evidentemente un rivo non può piangere ma nella prospettiva di Pascoli che coglie una vita nascosta il rivo può piangere può piangere assieme agli uomini così come vedremo poi nel 10 agosto questo cielo che piange che piange sulle brutture sulle cattiverie dell'uomo e poi c'è una nastrofe perché evidentemente un rivo è soggetto un rivo singhiozza monotono il rivo dovrebbe essere priva di singhiozza di tutto e quella infinita tempesta finita in un rivo canoro di nuovo un rivo un ruscello che sembra cantare canoro mentre in questo rivo canoro tutta quell'infinita tempesta che era una metafora finalmente trova una pace quei fulmini che sembravano così determinanti nel quotidiano del poeta si trasformano in cirri in nubi rosse e dorate o stanco dolore apostrofe riposa evidentemente non è il dolore che si deve riposare quindi una metonimia l'effetto al posto della causa si rivolge a se stesso Pasquale la nube nel giorno più nera fu quella che vedo più rosa nell'ultima sera la nube più nera abbiamo un anastrofe la nube più nera nel giorno il cambiamento di posizione secondo la successione di routine della lingua italiana quindi le sofferenze i dolori più provanti oggi mi sembrano ormai cosa passata cosa superata e allora che voli di rondini intorno che gridi nell'ardia serena la fame del povero giorno prolunga la gara la cena immagina i nidi gli uccelli le rondini i passarotti che proprio perché non hanno potuto uscire durante il giorno a causa del temporale adesso prolungano la loro cena e possono finalmente assieme nella famiglia vedremo che riappare il nido alla fine portare a termine la loro giornata la parte si piccola i nidi nel giorno non lerebbero intera qui le cose cambiano allora i nidi qui c'è un iperbato no la parte i nidi nel giorno non lerebbero intera i nidi non ebbero la parte questa parte si piccola non lerebbero intera perché nel giorno la bufera non aveva permesso loro di uscire a un certo punto questa poesia che sembrava così serena e così piena di vita come tantissime altre poesie del Pascoli cambia tono siamo addirittura in una soluzione completamente opposta a quella di Carducci mentre Carducci molto spesso parte da uno stato di profonda sofferenza e poi con un colpo d'ali riesce a superare questa sofferenza per confermare un ottimismo di fondo per Pascoli le cose sono completamente all'opposto sono contrari il procedimento è contrario il percorso è contrario nel giorno non l'ebbero intera né io quindi ritorno con puntini quante cose avrebbe voluto dire Pascoli con questi puntini né io la mia famiglia che voli che gridi mia limpida sera si ritorna di nuovo all'immagine precedente in questa in questo in questa successione impressionistica e allora ecco altre immagini che si avvalgono di onomatopee e di figure onomatopeiche che sembrano in qualche modo parlare con la voce della natura e invitare il Pascoli finalmente a riposare mi dicono dormi mi cantano dormi sussurrano dormi bisbigliano dormi è un anticlimax dicono cantano sussurrano bisbigliano sussurrano e bisbigliano abbiamo anche con sussurrano e bisbigliano anche delle parole onomatopeiche che cercano di imitare il sussurrino il bisbiglio dormi 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 la voce di tenebra azzurra è un simono la voce di tenebra tenebra non può essere azzurra se azzurra non è tenebra uno dice ma perché ha messo queste due parole che sembrano cozzare l'una con l'altra perché probabilmente questa immagine è rivelatrice agli occhi del poeta mago fanciullo mi sembrano canti di culla e qui c'è tutto il recupero di un passato lontano canti di culla metonimia perché la culla non può cantare quindi c'è il contenitore al posto del contenuto mi sembrano canti di culla che fanno che ho torni come era nostalgie angoscia di una realtà che non appartiene più alla condizione del poeta sentivo mia madre se vi ricordate la voce la voce della mamma che appena la si sente si è già perduta cade nel momento stesso in cui la si sente puntini il nulla infatti poi nulla e ancora nulla sul fare della sera la novità di tutta questa poesia sta nel fatto che il verso è franto il verso è sempre interrotto guardate soltanto nell'ultima strofa puntini punti fermi nel mezzo del verso puntini ancora puntini e ancora puntini ancora puntini di sospensione la caratteristica di questa poesia è il procedere impressionistico è la metafora che è uno strumento per scrutare il mistero non è la metafora di Marino che punta a maravigliare è la metafora di Pascoli che per Pascoli è uno strumento di conoscenza e poi i temi che conosciamo già la mamma il nido i lampi i tuoni quante poesie con queste con questi attori il tuono il lampo la bufera il temporale e poi una natura che vive che parla che sembra palpitare degli stessi sentimenti del poeta e che quindi viaggia col poeta in perfetta sintonia l'abbiamo 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 l'abbiamo